marcello un saluto a te e ai tuoi ospiti appena terminata la partita juventus torino sappiamo tutti com'è finita 1 a 1 gran gol di gonzalen guain in splendida forma il torino secondo me ha ampiamente meritato il pareggio considerando che ha giocato gran parte del secondo tempo anche in 10 e quindi nel tutto sommato il punto è buono fermiamo questa questa serie di vittorie prolungate allo stadio ma prima o poi poteva e sarebbe successo quindi nulla nulla di grave quindi nulla di grave neanche per il campionato siamo adesso 10 punti domani la roma dovrà affrontare una gara difficile a milano con contro il milan e quindi al di là di questo il punto ci sta quello che avrei vorrei chiedere a massimile allegri se fossi in conferenza stampa come mai una settimana fa è sceso alla vigilia di una partita di coppa tre giorni dopo con il monaco è sceso a bergamo con l'atalanta con la squadra migliore e oggi invece è sceso con 5 o 6 undicesimi di meno quindi facendo questo massiccio turnover se giustamente una settimana fa ti vai a giocare la partita con l'atalanta la partita difficile una squadra molto in forma proprio perché in questo momento servono gli uomini migliori per chiuderla il prima possibile e quindi va in campo per giocare per i tre punti proprio per chiudere il discorso scudetto al più presto non ci riesci ma la settimana dopo credo che il derby sarebbe dovuto essere affrontato alla stessa maniera se lo abbiamo fatto prima alla vigilia di una coppa e di una semifinale di coppa dove partivamo in perfetta parità con il monaco non vedo perché non lo possiamo fare non lo potevamo fare questa sera forti del vantaggio 2 a 0 con il monaco che deve venire allo stadium e una partita come il derby che secondo me i tre punti di questa sera poteva chiuderla proprio proprio in questi 90 minuti considerando poi che domani sera potevamo addirittura suggellare proprio con la matematica di questo scudetto ai per il risultato finale naturalmente non cambierà nulla perché slitteremo di una settimana però sono tutte energie mentali che andremo secondo me a sottrarre in tutti in tutta la rosa ecco questo è a me ripeto a me non piace molto il turnover poi abbiamo visto che strada facendo nel secondo tempo poi ha messo i migliori e i migliori ha permesso di raddrizzare una partita quindi se in un primo momento abbiamo fatto il turnover fa riposare qualcuno per evitare infortuni cose varie allora avremmo dovuto comunque scegliere quella strada e portarla a termine per tutta la partita cosa che invece non è stata e quindi abbiamo messo abbiamo non abbiamo fatto poi recuperare più di tanto alcuni uomini e li abbiamo messi nelle condizioni anche di quegli infortuni che volevamo appunto evitare e fortunatamente non ci sono stati ecco questa contraddizione di base non mi è piaciuta molto diciamo questa 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 scelta qualcuno a riposo sì ma secondo me sei cinque sei undicesimi negli uomini più importanti considerando poi che qualcuno non ha giocato ad esempio come quadrato non ha espresso una delle migliori spalle partite quindi e naturalmente il torino giocando comunque una buona una discreta partita ci ha messo in difficoltà fino alla fine fortunatamente è arrivato il pareggio però ecco quello che io avrei voluto chiedere questo come mai una settimana fa squadra titolare naturalmente per andare a prendere i tre punti e oggi invece questo massiccio turnover ciao a tutti alla prossima ciao